La statua equestre Cosimo I, opera bronzea del Giambologna, collocata in Piazza della Signoria, è stata smontata per il restauro. Per l'imponente operazione è servita una gru che ha sollevato il Cavaliere e lo ha posizionato su un appoggio in legno. Già l'altro anno siamo partiti con i lavori a Piazzale Michelangelo per il restauro della copia del David, lavoro completato. Quest'anno abbiamo posto il cantiere qui su Cosimo I, i lavori sono in corso, attualmente siamo a buon punto con i lavori sul basamento, mentre è ancora in corso il lavoro principale sul gruppo bronzo di Cosimo al Cavallo, insieme al Cavallo. Sempre qui a Piazza della Signoria stiamo procedendo anche con gli altri gruppi statuari di nostra competenza. Abbiamo appena finito il David di Michelangelo che inauguriamo praticamente oggi in occasione anche della presentazione delle visite a questo cantiere e continueremo anche l'altro anno, il prossimo anno, con il restauro del monumento di Bacio Bandinelli, Ercole e Caco. Cosimo I e Cavallo torneranno probabilmente insieme alla fine dei lavori a marzo. Il Cosimo è semplicemente poggiato sul cavallo, quindi non è stato necessario intervenire, soprattutto non ci sono state operazioni invasive e distruttive. È semplicemente stato sollevato e al tempo stesso, quando il lavoro sarà finito, sarà semplicemente ricollocato e ripoggiato sul cavallo.